Pensiero ad alta voce, il ritorno al cimitero. Qualcuno ha detto tra sé, ormai il tema del cimitero è stato affrontato, ma non ha fatto bene i conti. A distanza di circa tre mesi, armato di telecamera, ci siamo portati al più luogo. Tutto è rimasto come già trovato, anzi, ancora più degradato. Sindaco Vito Ottombrini, ma non dovevamo fare una ricognizione insieme nel mese di settembre? Già trascorso, ovviamente, signor Sindaco. Intanto i lavori per la costruzione dei loculi è nuovamente bloccata a causa del mancato pagamento della fattura del mese di agosto, così come scritto sul cartello. Gli insetti aumentano il 2 novembre e alle porte. Buona vita, ruvesi! Grazie! 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 Grazie!